16 giovani che concludono il percorso di formazione e lavoro nel servizio civile, altri 36 pronti ad entrare nelle strutture comunali per un anno di formazione indispensabile per il futuro. Questo è il quadro del servizio civile del comune di Eboli. Ieri mattina nell'aula consigliare il sindaco Massimo Cariello e l'assessore alle politiche giovanili Carmine Busillo hanno consegnato gli attestati di partecipazione ai 16 ragazzi che hanno preso parte al secondo progetto di servizio civile. Per il 2019 saranno 36 giovani volontari impiegati nei tre programmi di servizio civile nazionale equamente divisi tra i progetti Cultural Expo, Fuori Pericolo e Libertà e Partecipazione.